Il progetto Iuri Home Cinema si ispira originariamente alle sedute degli space shuttle privati in grado di aperci alla nuova frontiera del turismo spaziale. Mascheroni interpreta così questa nuova esigenza alla sua maniera, adattandola anche ad un contesto privato di home cinema, garantendo lusso e comfort e proponendo ancora una volta la propria originale e personale visione del design di interni e del concetto di arredamento. Grazie a tutti.